Il 10 agosto, notte di San Lorenzo, chiude il sipario su una ricca estate di appuntamenti alla Fondazione Oasi del San Bartolo, che in dieci settimane ha prodotto 23 venti nel solco della cultura della natura, paradigma in linea alla filosofia che sta accompagnando il 2024 di Pesaro, capitale della cultura. Un'estate in cui il palco violino della Fondazione si è trasformato in caffè letterario ospitando 24 autori e autrici in un programma che ha miscelato sapientemente narrativa e saggistica ad attività come yoga, pilates e meditazione, così come a musica dal vivo e assaggi di specialità del territorio. Programma trasversale che sarà proprio anche del gran finale del 10 agosto, notte dei desideri e delle stelle che si potranno ammirare da uno dei migliori punti d'osservazione del territorio. Il vantaggio di non avere un inquinamento atmosferico e quindi delle luci che ci circondano permettono di vedere le stelle, ma poi le vediamo anche attraverso la collaborazione con gli astrofili che ce le faranno vedere ancora da più vicino, ancora più gigante, chissà se riusciranno a beccare una di quelle che cade, essere fortunati che mentre guardi il cielo stellato con questi bellissimi telescopi, chissà se si beccherà anche una stella che cade e questo è provare per credere. Una serata che prevede anche aperitivi al tramonto, degustazione di piadine e l'ascolto musicale della discoteca silenziosa e rispettosa. Ascolteremo la musica con le cuffie, quindi questa che si chiama in inglese silent music, diciamola come volete, è musica in silenzio, quindi musica da discoteca, ballare e non disturbare. Ecco questo è un altro delle iniziative che abbiamo già fatto per altre volte qui in fondazione, si balla, si ascolta la musica, questo è rispetto per la natura, rispetto per la fauna e rispetto per il mondo che ci circonda.